Bentornati amici di MyFootballJersey. Vi presento questa maglia stupenda dell'Atletico Madrid. Questa è la terza maglia in edizione FAN. Vi ricordo che l'edizione FAN è quella un po' più confortevole, meno tecnica, pensata per i tifosi. FAN. La maglia non è niente male, diciamo non è tra le mie preferite, però bellissimo il tono di verde che è stato scelto, bella la lavorazione del polsino, una maglia che vi consiglio. Qui in alto vedete il costo, beh su questo non c'è niente da aggiungere, fate voi le vostre valutazioni. Se volete maggiori dettagli, come al solito, trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché sul sito, diciamo cliccando il link in sotto, è possibile ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che vi chiediamo, ma che ci aiuta a mostrarvi tutti i giorni recensioni come questa. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie!